Si sta concludendo il rinnovo cariche dell'ANAP, l'Associazione Nazionale dei Pensionati Aderenti a Confarticianato e oggi si è tenuto il rinnovo cariche a livello regionale con la nomina del nuovo presidente, i due vicepresidenti e la nomina anche del nuovo coordinatore regionale. A breve concluderanno i rinnovi anche tutte le regioni d'Italia per poi poter provvedere al rinnovo cariche nazionali. Ha eletto all'unanimità presidente regionale dell'ANAP il signor Fiorenzo Pasto. Un ringraziamento al Consiglio Diretivo che mi ha dato l'onore e fiducia per guidare l'ANAP regionale per i prossimi 4 anni. Un bilancio veloce di questi anni della sua presidenza? Mi ero riproposto 4 anni fa la mia elezione di crescere numericamente l'ANAP per oltrepassare i 220.000 soci come me lo sono trovato. A distanza di 4 anni sono leggermente superiore, avrei avuto dei numeri superiori. È vero però che in questi 4 anni è successo il finimondo, tutte le organizzazioni sindacali sono calate, soprattutto sono calate le organizzazioni sindacali degli attivi e pertanto mantenere lo stesso numero è già una cosa molto positiva. Il fatto che anche il prossimo presidente, se toccherà ancora a me, ma sarà ancora quello l'obiettivo di tenere i numeri, sarebbe già un successo visto che le prospettive nell'immediato futuro purtroppo non sono rosie. Devo denunciare fortemente, lo denuncio dalle terre del Veneto che è una terra dei grandi lavoratori, che ad un certo momento il lavoro è solo per televisioni e sui giornali. In realtà il lavoro è quello che manca, le commesse sono quelle che mancano, c'è ancora tanta voglia da parte degli artigiani e delle piccole imprese di fare, di lavorare, di mettersi a disposizione. Purtroppo non è assolutamente così. Deve cambiare il sistema, il sistema nazionale, deve cambiare un po' tutto, deve tornare la fiducia. È la fiducia che manca agli italiani, è la fiducia che manca ai pensionati, è la fiducia che noi vogliamo dalle istituzioni a qualsiasi livello perché noi siamo disponibili ancora a darle la fiducia. L'abbiamo dimostrato in 50, 60 e più anni di lavoro facendo l'Italia, ma facendolo veramente e credo che a questo punto dall'altra parte non ci sia adeguata risposta. Presidente, una nomina importante, l'Associazione Veneta dell'ANAP conta a livello nazionale, avete avuto il Presidente nazionale presente, e lei viene da una provincia importante con molti soci, ha ricordato prima l'Assemblea e la seconda d'Italia. Cosa si aspetta da questo impegno? Beh, da questo impegno, miracoli certo non li possiamo fare, però naturalmente avendo l'onore, però anche l'onere di rappresentare a livello regionale 24.000 soci circa, il nostro impegno è quello di, come lo dice proprio lo Statuto, quello di coordinare, stimolare tutte le iniziative a tutela dei nostri soci, che sono spazi nel territorio, soprattutto in questo momento storico, e che non è facile tutelare le fasce più deboli che sono i pensionati in questo momento, perché noi non abbiamo pensionati d'oro, difficilmente attraverso gli artigiani abbiamo pensionati d'oro, però è perché appunto la nostra benegazione, il nostro spirito di sacrificio, che abbiamo sempre adottato nel stile della nostra vita, magari non ci laniamo più di tanti, non siamo in piazza con le bandiere, però noi abbiamo il compito di tutelare e rappresentare i nostri soci, in qualsiasi livello, in tutte le istituzioni. Lei ha sottolineato più volte i colleghi provinciali, i coordinatori provinciali, pensa di avere proprio un'attività collegiale, di lavorare molto con il direttivo e con i colleghi del territorio? Ma io penso che sia fondamentale questo, perché noi veniamo dalla grande famiglia che è la Confartigianato, e la Confartigianato non bisogna dimenticarlo questo, l'ANAP è una grande famiglia, perché lo sappiamo tutti i numeri, diciamo che abbiamo detto prima, perché a livello nazionale siamo addirittura in 240.000 circa, siamo piccolo esercito. Per me è fondamentale questo rapporto che dobbiamo avere con la Confartigianato, naturalmente i coordinatori ci fanno la 3 di unione o no, anche perché direi che bisogna far pensare che in questo momento noi contribuiamo tantissimo per quanto riguarda il bilancio della Confartigianato, ma non dico in tono così di polemico o di pretendere chissà che cosa, lo dico proprio perché noi facendo parte di questa famiglia dobbiamo tutti collaborare, naturalmente però avendo il giusto rispetto del nostro ruolo, vorrei usare una parola che non so trovare qualche altro termine in questo momento, ma non vorrei pensare che io volessi polemizzare, cioè vorrei fare in maniera che però noi dobbiamo avere anche il dovuto rispetto per il nostro ruolo, che non dobbiamo tra virgolette lemosinare certe cose, questo è per poter lavorare bene, bisogna che ci sia un rapporto leale tra noi due, e noi sicuramente collaboriamo, anzi siamo pronti anche a livello nazionale, stiamo praticando delle politiche, che adesso aiuteremo l'INAPA, aiuteremo la Confartigianato, abbiamo fatto tante cose per aiutare il sistema, ma perché se le nostre imprese lavorano ci aiuteranno anche noi stessi per poter, anche perché se chi lavora paga i contributi per pagarci le nostre pensioni, parliamo di chiari, ma a parte le battute e gli scherzi, e poi noi dobbiamo fare un invecchiamento attivo di usare delle buone pratiche per poter eventualmente portare le nostre esperienze, per aiutare le future generazioni, perché che molte volte, lo dico sempre, sono nostri figli e nostri nipoti. Lei ha detto che se sapeva che era così bello stare nell'ANAPA non avrebbe mai lavorato, ha aperto così il suo discorso. Esatto, questa è una battuta che la uso spesso, io addirittura ho fatto una maglietta, dove proprio c'è scritto qua, questa battuta l'ho coniata qualche anno fa, l'ho usata anche in varie occasioni nazionali, e tutti quanti si mettono a ridere, sa perché? Perché ho trovato un ottimo sistema che funziona, che non è solo di partecipazione attiva, vera e propria, nel senso che dobbiamo impegnarci anche in attività, naturalmente è ovvio, ha l'interesse dei nostri soci, ma abbiamo anche molti incontri da livello ludico, di divertimento, di aggregazione, perché dovete sapere che quando si arriva a una certa età, molti soci sono soli, per tanti motivi, per motivi o perché non hanno figli, o perché magari hanno figli distanti, eppure i figli nipoti hanno altre preoccupazioni, e di conseguenza l'aggregazione dei soci anziani, di fare gruppo, di stare insieme, aiuta moltissimo proprio per nello spirito. Io vedo, guarda, che se io provengo dal mandamento di Asolo Montebelluna, abbiamo soci che, non so, istituiamo dei corsi, corsi di computer, corsi di potenziamento della memoria, con dei psicologi, con dei così, no. Fanno il corso una volta e poi lo ripetono, ma lo ripetono perché? Perché stare in compagnia, per passare il tempo, perché guardate che c'è molta, ma molta gente sola, che ha bisogno proprio di compagnia. E questo è anche il nostro compito, è un compito anche sociale, non solo così, da un punto di vista, così, delle volte, tecnico, diciamo. Quasi un passaggio di consegne, perché il vecchio presidente era bellunese, e quindi rimane la quota bellunese, ma anche una quota rosa nel direttivo. Il suo compito qui nella direzione regionale? Di collaborare, naturalmente, con il nuovo presidente, anche perché abbiamo già tante idee, tanti progetti da fare insieme. Che sia una donna, più che per me, personalmente, ho piacere per rappresentare le donne. Perché ho fatto una mia piccola statistica, a livello personale, in provincia di Belluno, il 40% dell'ANAP sono donne. Insomma, mi fa piacere. E vorrei fare qualcosa per i nostri soci, perché il mio obiettivo sono i soci, non sono le cariche. Insomma, sono contenta e spero di fare un buon lavoro. Ringrazio chi mi ha dato fiducia, naturalmente. Presidente, un incarico impegnativo per un'associazione che però ha un valore vero. Io direi che sono un new entry e in questo ruolo mi emoziono perché sono carico, volioso, di portare qualcosa di bene per la nostra società, per i nostri anziani e continuare il mio motto che con la squadra, con l'unione e con tutti quanti si può fare qualcosa di buono. Ecco, io il sociale l'ho sempre avuto nel DNA e questo ruolo mi alletta proprio per motivandomi ancora di più a fare qualcosa di utile per i nostri pensionati, per i nostri soci e per tutti quelli che ne hanno bisogno. Il Veneto è una regione importante per l'ANAP. Padova lo è per il Veneto. A Padova un'iniziativa ultima che avete fatto? Beh, come iniziativa io sono appena stato eletto e quindi ho già fatto un programma 2015 intenso e devo dire con molta soddisfazione che il mio consiglio ha approvato in un'unione di tale le mie idee e il mio progetto. Quindi sarà mio impegno di proseguire con questo spirito, con questa voglia di portare a casa un risultato per i nostri anziani perché dico i nostri pensionati sono la vita la vita reale del confartigianato. Il confartigianato d'impresa Veneto l'Associazione Nazionale Anziani e Pisonati ha Valerio Pellegrin con sincera riconoscenza per la dedizione e l'impegno di ministrati in questi anni alla guida della nostra associazione. Il Presidente vi risulto sarebbe Presidente Grazie a tutti. Grazie a tutti